Musica Mercoledì 12 ottobre 2022, nuovo appuntamento con l'informazione di Quilicata Tg, benvenuti. I residenti del centro storico di Licata sono letteralmente terrorizzati da una banda che da alcuni giorni mette a segno furti in appartamento. Sono state già visitate le abitazioni di diversi quartieri del centro. Vediamo. Banda di topi d'appartamento e nazione a Licata sembrerebbe proprio di sì, considerato che nell'ultima settimana si sono già registrati due gravi episodi che hanno finito per terrorizzare i residenti del centro storico della nostra città. A inizio settimana i ladri sono entrati in azione al quartiere nella parte alta del centro storico, hanno sfondato porte e finestre e rubato le poche suppellettili che si trovavano all'interno di case disabitate. Qualche giorno dopo, un paio di giorni dopo, sono arrivati nel quartiere Santa Maria che dista poche decine di metri dal quartiere. E anche qui hanno sfondato i portoni di ben quattro appartamenti abitati soltanto in estate perché di proprietà di emigrati. E il bottino è stato più cospicuo. Hanno portato via piccoli mobili dei televisori e delle suppellettili. Anche in questo caso tanta preoccupazione tra la gente del posto. Il centro storico di Licata è abitato soprattutto da anziani e quindi per loro c'è una grande preoccupazione per quanto sta accadendo. Bisogna intervenire per far cessare in tempi brevi questi raid che portano soprattutto terrore. E ora come al solito la pagina dedicata al Covid-19. A Licata si assiste ad una nuova diminuzione, sia pure lieve, dei casi di contagio. In questo momento, secondo quanto annunciato dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, i positivi sono 33. Nei giorni scorsi erano 38, quindi negli ultimi due giorni ci sono stati 5 guariti. Per quanto riguarda la provincia di Agrigento, si assiste a 30 nuovi positivi su 562 tamponi eseguiti. Una persona è stata ricoverata in ospedale, mentre ben 95 sono i guariti. Per fortuna non c'è alcun nuovo decesso. Cambiamo argomento. Nuovo primario per il reparto di cardiologia dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata. Si tratta del dottor Salvatore Montalto di Palma di Montechiaro che ha vinto il concorso. Stamani è stato ricevuto dal manager dell'ASP, Mario Zappia, insieme ad altri 5 primari neonominati. Vediamo di che si tratta. C'è un nuovo primario nel reparto di cardiologia dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata. Si tratta del dottor Salvatore Montalto di Palma di Montechiaro dove è anche consigliere comunale. Ha vinto il concorso bandito dall'ASP di Agrigento ed è stato nominato primario del reparto. Lo ha reso noto l'ASP di Agrigento comunicando che sono ben 6 in tutta l'azienda sanitaria provinciale i vincitori di concorso. Nuove nomine di direttori di unità operative complesse dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, scrive l'ASP. Il commissario straordinario Mario Zappia ha ricevuto i neodirettori vincitori delle procedure concorsuali per la formale sottoscrizione dei contratti quinquennali. Si tratta di Giuseppe Tulumello, nominato primario dell'unità di ortopedia del presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca, Luciano Sutterasardo e Salvatore Montalto, neoprimati rispettivamente delle parti di cardiologia di Canicattia e di Licata, Michele Barbera, direttore dell'orologia di Sciacca, Giuseppe Rotondo per malattie infettive a Ribera e Leonardo Giordano, nuovo direttore del modulo dipartimentale AG2 Sciacca-Ribera-Bivona. Rimaniamo in tema di sanità. Domani ad Agrigento gli specialisti si confronteranno sull'aumento dei casi di depressione, aumento notevole che riguarda soprattutto i giovani e a causarlo sarebbero il Covid, la guerra, ma anche la crisi economica che di fatto non sta risparmiando nessuno. Il corso è diretto dalla dottoressa Pasqualina Vetro, direttore facente funzioni del modulo AG1 dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ed è organizzato in collaborazione con il Dipartimento Salute Mentale dell'Asp, diretto da Raffaele Barone. La cronaca nuova lite stamani al porto Pescherecci di Licata, il porto di Marianello, all'episodio Il Terzo, che si registra in appena due settimane, si è verificato a metà mattinata. Sarebbero venuti alle mani alcuni pescatori. Sul posto si sono precipitati i carabinieri e la polizia che hanno sedato gli animi e riportato la calma. Cambiamo decisamente argomento, è una bella notizia, si chiama Mirco Medical Center, il centro medico inaugurato sabato nel quartiere Fondachello a Licata. L'iniziativa è dell'imprenditore licatese Nunzio Vecchio. Vediamo. Il Mirco Medical Center è un centro innovativo, creato e studiato ad hoc per le esigenze dei medici specialisti, che potranno soffrire dei nostri spazi per fare le loro visite e accogliere i pazienti. È sicuramente una struttura molto moderna, innovativa, soprattutto per il territorio, è sicuramente una novità. Nasce dalla lungimiranza e dalla visione di un imprenditore che è Nunzio Vecchio, che ha da tanti anni lavorato a questo progetto e che nasce con un progetto che sicuramente è di grandissima dignità, perché anche dal nome stesso, che è appunto Mirco, è in memoria del suo caro figlio che è scomparso qualche anno fa. Questo progetto è sicuramente un'opportunità anche per la città di Licata, perché convoglierà pazienti, medici provenienti da tutta Italia. Il Mirco Medical Center è anche una Mirco House, perché Nunzio Vecchio, dalla sua illuminazione, ha pensato di dotarlo anche di moderne e accoglienti camere a disposizione sia dei medici che dei pazienti per soggiorni più prolungati, quindi avranno anche l'opportunità di conoscere e vivere questo bellissimo territorio. È una struttura che a Licata mancava, almeno in questa proporzione e di questa qualità. L'imprenditore che ha avuto l'idea di portare avanti un progetto sanitario in un territorio che è alla periferia dei grossi centri di indagine medica è un'idea che avrà sicuramente dei risultati. Lui sta rischiando, ma secondo me sta rischiando bene, perché a Licata necessitava, necessita anche nei comuni qua vicino. Sono sicuro che farà in modo di portare qua dei professionisti che attireranno l'Interland. Il FAI Sicilia, associazione di autotrasportatori diretta da Savatore Bella, è pronto a bloccare le strade siciliane per solidarietà nei confronti dei produttori dell'uva Italia, messi letteralmente in occhio dal caro Prezzi. Bella ha annunciato ieri che la situazione è diventata ormai insostenibile e il FAI sta valutando seriamente la possibilità di tornare a protestare. Io non rischio, è così che si chiama l'iniziativa che nel prossimo weekend sarà realizzata in 600 piazze italiane, compresa Licata. Qui a organizzarla sono la Guardia Costiera Ausiliaria e la Procivis, che daranno tutte le indicazioni su che cosa fare in occasione di eventuali terremoti, maremoti o alluvioni. Ma vediamo tutti i dettagli del servizio. Per la tua pubblicità su Qui Licata, chiama subito il 320-7550-740. PUPAP Si chiama Io non rischio ed è l'iniziativa condotta in tutta Italia, in almeno 600 piazze del nostro paese, dalla Protezione Civile, per dare delle indicazioni ai cittadini su cosa fare, come muoversi, qualora si verifichino casi di calamità naturale come terremoto, maremoto e alluvione. A Licata, protagonisti dell'iniziativa saranno la Guardia Costiera Ausiliaria e la Procivis, entrambe associazioni di volontariato praticamente impegnate ogni giorno sul territorio. Saranno presenti nei due centri commerciali cittadini per dare delle indicazioni. Oltre al punto informativo, anche quest'anno i volontari invitano i dicatesi, si legge in una nota, ad un appuntamento speciale, quello delle piazze digitali attraverso le due pagine Facebook. Basta andare su Facebook, scrivere Io non rischio e trovate tutti i contenuti. Una a due giorni che ha l'obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e la conoscenza delle buone pratiche di protezione civile, accrescendo al contempo la consapevolezza dei rischi naturali presenti sul nostro territorio. Fondamentale per la campagna è il ruolo attivo dei cittadini che potranno informarsi e confrontarsi nelle piazze fisiche e digitali, con l'ausilio di contenuti interattivi e dirette streaming sui social media. Un'importante occasione per fornire spunti e approfondimenti sui rischi e sui comportamenti utili da adottare per proteggere se stessi e l'ambiente in cui si vive. Bene, l'appuntamento odierno di Quiricata DG si conclude qui. Grazie per l'ascolto, ci rivediamo venerdì. A presto!